Le priorità sballate del Presidente Romano Marsilio e della Giunta Lenta. Da un lato aumentano gli stipendi ai direttori, al management, ai direttori generali, amministrativi e sanitari, introducendo altre figure dirigenziali in un aumento per 2,7 milioni di euro. E gli unici risultati che hanno ottenuto con questo aumento di stipendi sono una lista di attesa interminabile, paurosamente aumentata in questi ultimi mesi e che è arrivata a toccare quota 140 mila prestazioni ambulatoriali di arretrato ed oltre 14 mila prestazioni chirurgiche dentro gli ospedali in attesa. Ovvero migliaia e migliaia di cittadini attendono che riparta l'attività sanitaria in questa regione, l'attività professionale dei medici e cosa fa il Presidente Romano Marsilio e la sua Giunta? Aumentano gli stipendi, i compensi, i premi ai direttori, al management e introducono ulteriori figure dirigenziali lasciando però le persone, i cittadini in una interminabile lista di attesa.